Ciao a tutti, eccomi di nuovo qua con la terza parte di questo benedetto shopping con i saldi con le cose che ho comprato per Diana, lo so quest'anno mi sono sbizzarrita diciamo così, però vi dico io dai 6 mesi in su praticamente non avevo niente per Diana e ne ho approfittato sinceramente ora quello che vi farò vedere adesso l'ho preso diciamo così dall'Original Marines che ha messo tutto in saldo al 50% da subito infatti è perfetto poi la seconda cosa che vi devo dire è che se mai mia cognata vedesse questo video l'ho ringraziata di persona ma approfitto per ringraziarla di nuovo a dire che è una persona stupenda e sono molto fortunata di averla come cognata perché quello che vedrete adesso comunque l'ha comprato lei e ha voluto pagare lei e quindi niente, mi fa come regalo anche come madrina perché sarà lei la madrina di Diana ha voluto comprargli, già comprargli un pochino di roba come sempre ma lei, cioè ancora, quando era ancora nella mia pancia mi faceva dire mi ha sempre fatto dei regali stupendi quindi io non finirò mai di ringraziarla, veramente grazie Giulia e niente, adesso partiamo con quello che l'ha già voluto comprare allora, qui abbiamo per prima cosa un pigiamino che questo qua è un pigiamino felpato e non ho idea di quanto costasse perché vedo che il prezzo è stato tolto non so perché ma anche le commesse tolgono i prezzi io poi lì sul momento non me ne sono accorta subito, non me ne sono accorta dopo quindi pazienza comunque misura 12 però se voi dovete comprare qualcosa dell'originale magari ne sappiate che comunque veste grande cioè Diana adesso ha 4 mesi e mezzo e c'ha della roba addosso che misura 3-6 mesi e io le maniche tipo della maglia le ho dovute arrotolare due volte perché sono troppo lunghe quindi veste grande, quindi ho preso 12 perché mi fa guarda che già 12 veste praticamente 18 quindi per l'inverno prossimo è bello spesso, bello caldo e non penso che lo userò per farlo addormire ma come tutta in casa penso che sia perfetto e sono in coordinato con questi pantaloncini io dico sempre pantaloncini ma perché intendo pantaloni piccoli non pantaloncini corti insomma pantaloni e sempre misura 12 perché appunto è il coordinato del pigiama barra tutta perché io lo userò come tutta poi abbiamo preso, anzi mi ha preso cioè tutta questa roba ragazzi io me la so scelta io perché comunque sono arrivata alla cassa per pagare e lei aveva già pagato cioè ha pagato lei e quindi gli ho detto vabbè quindi io non ci sono stata neanche a saperlo neanche sceglievo tutta sta roba sceglievo due cose poi andavo io senza di lei e mi compravo quello che mi serviva però è stata gentilissima non finirò mai di ringraziarla comunque abbiamo scelto questo paio di pantaloni anche questo non si sa il prezzo mesura sempre 12 mesi perché comunque un pantalon da ginnastica non è leggero è un caldo cortone però non è felpato quindi per quest'autunno andrà benissimo è fatto così perigio arricciato sotto e qua ha un coniglio cos'è? no un orsacchiotto rosa ecco il fiocchetto qua in vita l'elastico normale poi un altro paio di pantaloni che mi sono innamorata quando l'ho visto non so perché non mi piacciono innamorire anche qua il prezzo è stato tolto non ho idea di quanto costassero questo è misura 6-9 per questa primavera vedete che è bello questo verde verde viva verde militare insomma con questa falfalla ricamata sopra fatta così alle gambette arrotolate dietro è così la vita non è regolabile comunque al bottoncino qua speriamo che si apra ecco così si apre così e questo è misura 6-9 appunto per questa primavera ricordo sempre che tutta questa roba qua era tutta al 50% quindi tutta a metà prezzo un altro paio di pantaloni anche quali prezzo non si sa perché la signora l'ha tolto questo è misura 6-9 sempre per questa primavera comunque ho preso perché sono leggerini e c'è mamma eh che ti sei ribaltata la mucca qua mamma mia dai quando finì la mamma dai vedo scusa sono questi pantaloni di velluto leggero rossi semplici semplici fatti così no mamma no così misura 6-9 e infine abbiamo preso questi più che jeans sono sì sono jeans elasticizzato jeggings mi sembra come cacchio si chiama anche questa misura 6-9 ah questi qua invece venivano 16,99 e a metà prezzo quindi 8 euro è qualcosa misura 6-9 sono fatti così tipo gli insetti con le taschine sì mamma adesso mamma è finito e dai dai topino dai oh sì 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 scusate un attimo eccomi qua sono andata a prenderla mentre le camere sono un po' spuntino spostata ma vediamo se riusciamo a concludere allora poi abbiamo preso due vediamo mamma se riesce a stare seduta tesoro mio tesoro mio eh sì mamma vediamo se riusciamo a finire fai finire mamma lo so che ti stai spazzentendo aspetta te prendiamo un bocchino la maglia ma non ti puoi mangiare la maglia prendi il gioco allora ho preso questa maglia con con titti la minitun si è rossa con titti vedete maniche lunghe questa qua è misura 18 e costava 12,99 euro quindi è stata pagata meno di 6,50 euro così dei lunipunes poi un'altra maglia questa è misura invece 6,99 euro per questa primavera anche qua c'è il prezzo costava sempre 12,99 euro quindi sempre meno di 6,50 euro con ciotolina dei Flintstones e rosa con i bottoncini dietro 4 bottoncini dietro e infine siamo quasi addirittura d'arrivo questo qua è un vestito è misura 6,99 quindi per questa primavera costava 22,99 l'abbiamo pagato a metà prezzo quindi 11,50 euro e è sempre con ciotolina qua sempre dei Flintstones vedete che carino sto vestitino bianco con la gonnellina e infine questo pezzo è la mia preferita in assoluto mi è piaciuto un sacco quando l'ho vista e questo qua è un vestitino misura sempre 6,99 costava 24,99 ed è così grigio maniche lunghe con ciotolina e sotto c'è il frufru diciamo che questa è una maglia di quella con i legggin a mettere con i legggin sotto ecco e questo è il mio pezzo preferito l'adoro questa cosa qua e niente ragazzi allora questo è stato veramente per ora dico per ora perché sinceramente aspetto che partano i saldi sempre da dall'original marines al 70% perché mia cognata mi fa c'erano ancora 2-3 cosette che volevo prendere però mi fa aspetta ancora un po' di giorni perché abbasserà ancora e e vedrai che troverai quello che troverai ancora perché qua abbastanza roba quindi poi è qua qua vicino a casa mia quindi aspettatevi prossimamente un altro video con altre cose comprate per per Diana scusatemi e niente allora adesso veramente vi saluto vi mando un grossissimo bacio spero che anche questo video vi sia piaciuto spero di rivedervi molto presto con un nuovo video ciao